Subito al lavoro nell'aula sinodale con un dono inaspettato, una meditazione di rara bellezza offerta da Benedetto XVI come commento al Vangelo del giorno. I 262 tra vescovi cardinali e laici arrivati da tutto il mondo per il sinodo sull'evangelizzazione si ritrovano ad ascoltare il pontefice che parla di Dio con un'essenzialità e un'autenticità dottorali dagli accenti commoventi. E mentre ci si prepara ad affrontare l'urgenza su cui la Chiesa si interroga da decenni il Papa va dritto al cuore della questione. Chi è Dio? Cosa c'entra con l'umanità? Dio non è un'ipotesi, afferma. Dietro le nuvole della storia Dio c'è. Ha rotto il silenzio dell'universo, si è mostrato, ha parlato, ci ha amato, è entrato nella nostra vita. E questo è il nucleo della fede cristiana, ciò che non si può fare a meno di comunicare la notizia che deve arrivare all'uomo di oggi. Un fatto di tale portata non ammette reticenze. Il cristiano non può essere tiepido, avverte Benedetto XVI. Deve essere animato dal fuoco della carità, attraversato dalla passione della fede, una fiamma che accende l'essere e contagio agli altri. Così nasce la Chiesa, così gli apostoli accolsero e riconobbero l'opera di Dio senza creare una costituente ma accettando l'iniziativa del padre. Indicazioni preziose per i padri sinodali pronti ad entrare in una materia complessa e trovare strade per l'evangelizzazione di un mondo sconvolto dallo tsunami del laicismo. L'espressione è dell'arcivescovo di Washington, il relatore generale del sinodo che questa mattina ha tracciato i confini della discussione parlando di una società secolarizzata, ormai estranea al concetto di Dio in molto simile al mondo in cui operarono e testimoniarono le prime comunità cristiane. Una scristianizzazione che interessa anche molti battezzati. Almeno due generazioni, ha denunciato il cardinale Viewer, non conoscono le preghiere fondamentali della fede cattolica né comprendono il valore dei sacramenti o la partecipazione alla messa. Un universo culturale è stato scardinato e occorre ripartire dai fondamentali. L'annuncio di Cristo risorto, l'incontro con lui e il padre attraverso la Chiesa, la presenza del regno di Dio già su questa terra. Per questo occorrono annunciatori coraggiosi e audaci che avvertano l'urgenza e la gioia della comunicazione e della fede, radicati e uniti nella Chiesa. Solo così la testimonianza sarà autentica.